Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Pietro Pulizzi è il padre naturale di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il primo settembre del 2004 da Mazzara del Vallo in provincia di Trapani. Attualmente, Denise porta il cognome di Tony Pipitone, che era sposato con la madre Piera Maggio al momento della sua nascita e la cresciuta fino al momento del rapimento. Solo quando Denise scomparve, Tony rivelò la verità, ossia che la bambina era il frutto di un'unione extraconiugale. Successivamente, la Maggio divorziò da Tony e iniziò una storia alla luce del sole con Pietro, che le sta accanto in questa lunga battaglia alla ricerca della verità su Denise. Ormai è cosa nota che Pulizzi ha pubblicato un annuncio sulla sua pagina Facebook alla ricerca di un posto di lavoro, un post davvero struggente che racchiude il dramma della scomparsa e le conseguenze inevitabili causate da una storia così mediatica e alla ricerca di risposte. Pietro Pulizzi ha esordito scrivendo Mi chiamo Pietro Pulizzi, molti mi conoscono come il papà di Denise. Sono in cerca di un lavoro, la mia professione è autista di autobus, ma cerco anche qualche altro lavoro che sia adeguato alla mia persona e che mi faccia vivere possibilmente più sereno in un paese civile. Nessun essere umano dovrebbe lemosinare i propri diritti, un lavoro per vivere dignitosamente. Il lavoro mi permette di assicurare a me e alla mia famiglia le necessità comuni e anche quelle non comuni, tutto ciò che è stato e sarà necessario in aiuto a Denise. A distanza di davvero poche ore da quell'appello, apprendiamo una lieta notizia. A rispondere all'annuncio di Pietro Pulizzi ci ha pensato Autoline e Toscane, scrivendo che la possibilità di candidarsi come autista è sempre aperta, invitandolo a farlo tramite il suo portale. Si tratta di un'offerta di lavoro davvero interessante, per cui speriamo che tutto vada in porto e che Pietro possa trovare stabilità e serenità nella sua vita lavorativa mentre continua la sua lotta alla ricerca della verità su Denise. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale. Grazie per la visione!